Il Difensore Civico della Regione Toscana è un organismo di garanzia della Regione al quale possono rivolgersi tutti i cittadini, sia singolarmente ma anche in forma associata con comitati, associazioni portatrici di interessi. Si possono rivolgere a noi tutti coloro che ritengono di non essere soddisfatti nei confronti della pubblica amministrazione per un diritto soggettivo o un interesse generale. È composto il Difensore Civico regionale da una serie di funzionari e impiegati e avvocati che sanno analizzare i vari procedimenti amministrativi. Si rivolgono a noi tutti coloro che ritengono di aver avuto una bolletta della luce, dell'acqua e del gas non corrispondente agli effettivi consumi. Si rivolgono a noi chi ha ricevuto un'assistenza sanitaria non conforme agli standard, fermo restando la qualità importante della sanità in Toscana, ma accadono anche situazioni in cui un cittadino ritiene di non essere stato ben curato. Con la nuova disciplina della legge Celli Bianco c'è la possibilità che il Difensore Civico analizzi e approfondisca la responsabilità professionale del medico. Ma si rivolgono a noi anche tutta una serie di cittadini per la risoluzione dei problemi della immigrazione, delle tasse e dei tributi regionali, il bollo out, l'urbanistica, l'assetto del territorio, edificazioni non conforme ai piani strutturali approvati da consigli regionali, le politiche sociali non correttamente erogate ai cittadini, le attività produttive, tutti quei contenziosi in cui il cittadino crede che la pubblica amministrazione non abbia fatto quanto previsto dalla disciplina normativa e anche in termini di corretta opportunità amministrativa. Recentemente è venuta una signora con una bolletta esorbitante dell'Enel, tempo fa un altro signore con una bolletta molto alta sull'acqua, nell'acqua facciamo la conciliazione, cioè troviamo una soluzione. I cittadini ci scrivono o per fax o per posta tradizionale o per mail o per PEC o anche un contatto telefonico e noi avviamo un procedimento, un approfondimento, smussiamo gli angoli, troviamo il problema, lo risolviamo, non è banale. Leviamo molto stress e garantiamo dei diritti ai nostri cittadini, che non devono essere soltanto quelli di Firenze e dell'area metropolitana, ma anche quelli delle zone periferiche che invito con questo spot ad avvalersi e a utilizzare questo servizio gratuito a favore dei nostri concittadini. L'ambito di applicazione sono tanti, addirittura il difensore in passato ha nominato anche dei commissari ad acta, ha garantito l'accesso agli atti, alle cartelle cliniche, a dei procedimenti concorsuali che dovevano essere maggiormente attenzionati. Il difensore civico quindi non è una persona, è un insieme di funzionari che sono a servizio della collettività dei cittadini. La Toscana è stata tra le prime a credere in questo ufficio di difesa civica e tutt'oggi ci crede, ora come negli anni 70.